Eccoci ad un nuovo video di Grammatica Greca. Oggi parliamo del perfetto medio-passivo, di questa forma verbale che si incontra piuttosto raramente sui testi greci. Soprattutto capita di trovare dei perfetti medio-passivi in autori della tarda antichità, diciamo in autori che magari si trovano a scrivere in greco ma che vivono nel mondo romano. Accanto a questa modalità che è più frequente appunto nel greco più tardo, talvolta i participi perfetti e perfetti medio-passivi si trovano anche all'interno di testi di greco classico. Si trovano molto raramente perché il perfetto, come ho già spiegato nel video in cui parlo del perfetto attivo, è un tempo semplice in cui si descrivono i risultati nel presente di un'azione iniziata nel passato. Per chi volesse approfondire di più questo aspetto dell'azione risultativa io rinvio al video sul perfetto attivo. Qui ricordo per sommi capi che i greci utilizzavano il perfetto quando dovevano parlare di un qualcosa che fosse ancora operante nel presente come risultato di ciò che si era compiuto nel passato. Anche per il perfetto medio-passivo bisogna tenere a mente le regole del raddoppiamento e anche in questo contesto per una spiegazione più esaustiva c'è il video sul perfetto attivo. Qui le ripeto molto velocemente. dopodiché andremo a parlare della formazione e della flessione del perfetto medio-passivo. Anche se ci accorgeremo che le desinenze sono piuttosto semplici ma dovremmo fare una grande fatica a memorizzare i cambiamenti che i temi verbali fanno a contatto con le desinenze. Quindi il mio consiglio rispetto a questo tema specifico è quello di ripeterli più e più volte per due motivi. Uno perché ci sono questi mutamenti fonetici di cui ci dobbiamo impadronire. Due perché trovandosi molto raramente all'interno del testo poi diventa difficile riconoscerli ma ancora di più magari si riconoscono come perfetti medio-passivi ma non si hanno gli strumenti per ritornare al tema del presente. Raddoppiamento molto velocemente consiste per i verbi che hanno il tema verbale in consonante semplice nel ripetere quella consonante iniziale seguita da una epsilon. Quando la consonante del tema è aspirata di nuovo anteponiamo la consonante all'epsilon ma scegliamo la sorda corrispondente quindi per esempio per fiuo prendo la sorda corrispondente della fi che è la pi. Quando ho una consonante doppia oppure ro oppure due o più consonanti tranne quando io ho una muta seguita da liquido e nasale il raddoppiamento si presenta come l'aumento. Quando invece ho la consonante muta seguita da liquido e nasale si ripete soltanto la muta seguita da e. Quando ho il gruppo gamma ni il raddoppiamento è uguale all'aumento. Quando ho gruppi beta lambda o gamma lambda si ripete la prima consonante seguita da epsilon oppure talvolta il mio raddoppiamento è uguale all'aumento. Per quanto riguarda i temi verbali che iniziano per vocale o dittongo abbiamo un raddoppiamento che segue le medesime regole dell'aumento temporale. Però ricordiamo che questo aumento rimane per tutti i modi verbali. Ricordiamo che abbiamo alcuni verbi che iniziano per alfa, epsilon o omicron più liquida o nasale. Ecco questi possono avere anche il raddoppiamento attico che consiste nel ripetere tutta la sillaba iniziale e nell'allungare la vocale iniziale del tema. L'esempio più famoso è il perfetto di orao che ha tema op e al perfetto fa opopa. Per quanto riguarda il perfetto medio passivo c'è una prima buona notizia. È unico ed è atematico per tutti i verbi quindi dobbiamo imparare una sola costruzione. Ricordiamo che atematico vuol dire che non usa la vocale tematica quindi l'epsilon o l'omicron a cui siamo abituati e si costruisce il raddoppiamento più tema verbale più desinenze medio passive, desinenze semplici. Andiamo a vedere che cosa accade al tema verbale a contatto con queste desinenze medio passive. Allora la vocale a contatto con la desinenza si allunga e qui abbiamo i fenomeni fonetici a cui siamo abituati. L'alfa puro allunga in alfa, l'alfa in puro e l'epsilon allungano in eta e l'omicron allunga in omega. Il dittongo rimane invariato e invece se io ho un tema in D gamma ho la vocalizzazione del D gamma e l'inserimento di un sigma. Le difficoltà, i problemi ce li ho con i temi in consonante e insonante. Io vi consiglio di fissare nella memoria questo specchietto e di non discostarvi mai da questo perché come vedete i mutamenti sono ingenti e tra l'altro sono diversi da consonante a consonante. Partiamo dai temi in labiale. I temi in labiale sono i temi che terminano in P beta phi e quando il tema che termina in P beta phi si trova a contatto con le desinenze queste possono iniziare o per mi o per sigma o per tau o per sigma teta. In questo caso io avrò doppia mi psi pi tau phi teta. Gutturali k gamma chi io avrò gamma mi psi k tau chi teta. Per le dentali tau delta teta io avrò la caduta della dentale che si trasforma in sigma quindi sigma mi sigma, sigma, sigma tau, sigma teta. Nasali e le nasali tra l'altro saranno tutte quante in ni, sono tutti i temi in ni, sigma mi a contatto con mi, ni sigma a contatto con il sigma, ni tau a contatto col tau, di nuovo ni tau a contatto con sigma teta. Liquide lambda del rho a contatto con la mi e con la sigma e con il gruppo st restano invariate ma abbiamo la caduta del sigma davanti a teta. Andiamo a vedere la desinenza e diciamo subito delle cose. Per quanto riguarda l'indicativo noi abbiamo come abbiamo detto il raddoppiamento del tema verbale e le desinenze semplici. Per il congiuntivo e il lottativo invece un po' come avviene in latino noi abbiamo il participio perfetto medio passivo più il presente del congiuntivo del verbo essere, per l'ottativo il presente del lottativo del verbo essere. Dopodiché ritorniamo alla costruzione per l'imperativo, ritorniamo alla costruzione che abbiamo visto per l'indicativo cioè raddoppiamento tema verbale desinenze e la stessa cosa vale per l'infinito. Questa costruzione che quindi possiamo definire analitica o perifrastica talvolta si può trovare anche alla terza persona plurale dell'indicativo. Quindi andiamo intanto a coniugare e poi ve lo riporto. Quindi l'indicativo è l'heliumai, l'heliusai, l'heliotai, l'heliuston, l'heliuston, l'heliumeta, l'heliustai, l'heliuntai. Ma questo lo posso trovare anche l'heliumenos, l'heliumene, l'heliumenoneisi. Congiuntivo l'heliumenos, l'heliumene, l'heliumenon, o, es, e, l'heliumeno, l'heliumena, l'heliumeno, eton, eton, l'heliumenoi, l'heliumenaim, l'heliumena, omen, ete, osi, osin. Ottativo l'heliumenos, l'heliumene, l'heliumenon, eien, eie, seie, l'heliumeno, l'heliumena, l'heliumeno, eiton, eiten, l'heliumenoi, l'heliumenaim, l'heliumena, eimen, eite, eien. Un imperativo che, ormai lo sappiamo, manca delle prime persone. L'heliuso, l'heliusto, l'heliuston, l'heliuston, l'heliuste, l'heliuston, infinito, l'heliustai. Participio, l'ho riportato, ma, insomma, è raddoppiamento tema verbale, desinenza e il participio presente medio-passivo, però l'ho riportato. L'heliumenos, l'heliumene, l'heliumenon, l'heliumenu, l'heliumenes, l'heliumenu, l'heliumene, l'heliumeno, l'heliumenon, l'heliumenon, l'heliumene, l'heliumenon, 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 l'hel per chi si trova per la prima volta su questo canale giustifico il fatto di leggere anche i verbi oltre a riportare lo specchietto perché so benissimo che molti di noi hanno una memoria visiva molto sviluppata e quindi per loro è sufficiente vedere lo specchietto ma molti di noi invece hanno una memoria basata sull'ascolto e quindi necessitano di ascoltare più volte i contenuti per poterli memorizzare questo non è un difetto perché ricordiamoci sempre che noi siamo tutti quanti diversi gli uni dagli altri e ognuno impara a modo suo per questo do la doppia opportunità allora mi è sembrato bene riportare la flessione anche di verbi con il tema in labiale con il tema in gutturale con il tema in dentale con il tema in nasale e con il tema in liquida perché così uno prende confidenza con questi mutamenti fonetici di cui abbiamo parlato questo che abbiamo qui è il perfetto medio passivo del verbo leipo che quindi fa lelemmai, lelepsai, leleptai, lelemeta, lelefte, lelemenui, lelemenai, lelemena e isin lelefton, lelefton congiuntivo lelemenos, lelemeni, lelemenon, oesee lelemenui, lelemena, lelemena, omen, ete, osi, osin lelemenu, lelemena, lelemena, lelemeno, eton, eton al duale imperativo lelemenos, lelemeni, lelemenon, eian e isei lelemenui, lelemena, lelemena, eimen, ete, eian lelemeno, lelemena, lelemeni, eiten imperativo leleps, lelefto, lelefte, lelepton oppure leleftosan, lelepton, lelepton infinito lelefectai, participio, lelemenos, lelemeni, lelemenon E poi prosegue in tutta la sua coniugazione. Andiamo adesso a vedere la flessione di un tema in gutturale, ricordiamo le gutturali sono k, gamma, chi, qui impavidamente ho scelto il verbo prasso che ha tema verbale prag, impavidamente perché è un po' uno scioglilingua. Quindi, pepragmai, pepragsai, pepraktai, pepragmeta, pepragte, pepragmenui, pepragmenai, pepragmena esi o esin, peprakton, peprakton. Congiuntivo, pepragmenos, pepragmene, pepragmenon, o es e, pepragmenui, pepragmenai, pepragmena o menete osi, pepragmeno, pepragmena, pepragmeno, eton, eton ottativo. Imperativo, pepragmenos, pepragmene, pepragmenon, eien, eie, eie, pepragmenui, pepragmenai, pepragmena, eimen, eite, eien, pepragmeno, pepragmeno, pepragmena, pepragmeno, eiton, eiten. Imperativo, pepraxo, pepracto, pepragte, pepragton, o pepraktosan, pepragton, pepragton, infinito, pepraktai, participio, come abbiamo già letto, pepragmenos, pepragmene, pepragmenu, e continua tutta la declinazione. Andiamo a vedere adesso i temi in dentale, che sono un po' più semplici, i dentali sono tau, delta, teta, questo è il verbo peito. Quindi, pepesmai, pepiesai, pepeistai, pepese metà, pepeste, pepesmenui, pepesmenai, pepesmena, eis, eisin, pepeston, pepeston. Congiuntivo, pepesmenos, pepesmene, pepesmenon, oese, pepesmenui, pepesmenai, pepesmena, omenete, eosin, pepesmeno, pepesmena, pepesmeno, eton, eiton. Ottativo, sempre uguale, pepeismenos, pepeismene, pepeismeno, neie, neie, seie, pepeismeno, i pepeismena, i pepeismena, eimen, eite, eien, pepeismeno, pepeismena, pepeismeno, eiton, eiten. Imperativo, manca come sappiamo già delle prime persone, quindi pepeso, pepeisto, pepeste, pepeston, 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 infinito, pepeistai, participio, pepeismenos, pepeismene, pepeismenon, e poi continua, pepeismeno, 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 eccetera, eccetera. Nasale, i temi sono sempre in ni, questo è il verbo faino, pefasmai, pefansai, pefantai, pefasmeta, pefante, pefasmenoi, pefasmenai, pefasmena, eisi, oisin, pefanton, pefanton, congiuntivo, pefasmenos, pefasmene, pefasmenon, oese, pefasmenoi, pefasmenai, pefasmena, omeneteosi, pefasmeno, pefasmena, pefasmeno, eton, eton, ottativo. Pefasmenos, pefasmeni, pefasmenon, eien, eies, eie, pefasmenui, pefasmenai, pefasmena, eimen, eite, eien, pefasmenu, pefasmena, pefasmena, pefasmenu, eiton, eten, imperativo. Pefanzo, pefanto, pefante, pefanton, oppure pefantosan, pefanton, 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 infinito, pefantai, participio, pefasmenos, pefasmeni, pefasmenon. Bene, io ho messo anche la liquida, questo è il verbo stello, che è quindi a tema stal, quindi estal mai, estal sai, estal tai, estal meta, estal te, estal menui, estal menai, estal mena e isi o isin, estal ton, estal ton congiuntivo, estal menos, estal men, estal menon o es e, estal menui, estal menai, estal mena o menete osi, estal meno, estal mena, estal meno, eton, eton, ottativo, estal menos, estal menon, estal menon, eien, eies, eie, estal menui, estal menai, estal mena, eimen, eite, eien, estal meno, estal mena, estal meno, eiton, eiten, imperativo, estal so, estalto, estal te, estal tono, estal ton, estal ton, estal ton, infinito, estal tai, participio, estal menos, estal meno, estal meno, estal meno, estal meno, estal meno, estal meno, Io spero che questa registrazione sia per voi utile, credo che sia utile soprattutto a un gruppo preciso di persone, cioè coloro che hanno finito il biennio e poi si sono ritrovati al triennio con l'impegno di prepararsi e di studiare al triennio il perfetto e poi il perfetto medio passivo, ma poi non c'è stato il tempo sufficiente per rifletterci bene su questo tempo verbale e soprattutto per memorizzare in modo definitivo le desinenze e soprattutto i mutamenti fonetici. Questo, torno a ripetere, accade perché si incontrano molto raramente rispetto ad altri tempi e modi verbali, soprattutto rispetto al tempo del lauristo, al tempo del futuro. Quindi questo richiede da parte di chi si accinge ad imparare il greco un'accortezza diversa che io voglio qui ricordare, cioè l'accortezza di ripeterli più volte perché poi incontrandosi essi di meno sui testi, quando li incontriamo magari li riconosciamo anche come perfetti medio passivi perché hanno questa caratteristica grande, però poi non sappiamo bene i mutamenti fonetici e quindi andiamo in difficoltà a ricostruire il tema del presente, il lemma, quindi a trovare i verbi sul vocabolario. Qui l'unica soluzione, a mio modo di vedere, è lavorarci un po', magari ripetendone più volte un gruppo al giorno, un gruppo ogni due giorni, cioè un giorno fisso bene i mutamenti delle labiali, un giorno bene i mutamenti delle culturali e via dicendo, in maniera tale che così tutto quel tempo della digestione di questo tempo verbale che non si è avuto al biegno ce lo riguadagniamo al triennio. Quindi io vi auguro buon lavoro in questo processo di apprendimento che mi rendo conto è un po' ripetitivo, è anche un po' straniante mi rendo conto, però va sicuro che è utile perché poi alcuni autori, mi viene in mente Polibio, Plutarco, ne fanno un uso veramente molto frequente di questo tempo verbale, pertanto non si può non conoscerlo o pensare che basti la conoscenza dei presenti, degli imperfetti e degli auristi per cavarsela, che poi si va in difficoltà. Quindi io vi auguro un buono studio, un buon lavoro e mi auguro con questa registrazione di essere riuscita ad aiutarvi un po' in questo percorso che lo so che è da una parte faticoso e forse sotto questo aspetto anche un po' noioso, però tornare a ripetere è necessario. Quindi con un buon lavoro io vi ringrazio per l'attenzione e vi esorto ad effettuare l'iscrizione al canale e ci vediamo al prossimo video. Grazie.